Il Meccio, Foggia, Nardò, domenica alle 14.30 preso lo stadio a Zaccheria. La formazione Neretina incontrerà il Foggia, reduce dalla sconfitta esterna col Casarano. Il Nardocalcio sta affilando le armi per affrontare la gara contro i rossoneri. Gli uomini di Antonio Foglia Manzillo sono alla ricerca di punti utili per allontanarsi dalla zona play-out. Tutta la compagine Neretina può contare su un ottimo aumento di forma fisica, grinta e determinazione. Foggia contro la seconda della classe, ma sicuramente sulla carta forse una delle squadre più attrezzate. Ci andiamo consapevoli della forza del Foggia, ma anche consapevoli di quello che noi possiamo dare. D'altra parte se loro giocano per la promozione, noi giochiamo per la permanenza in Serie D, che per noi è un traguardo importantissimo. Quindi ci andiamo consapevoli, forti, carichi e sicuramente venderemo cara la pelle. Foggia non può perdere dal suo punto di vista più altro terreno nei confronti del Bitonto, però ripeto, è anche per noi una gara fondamentale. Sicuramente non partiamo battuti e crediamo sempre nel valore dei nostri calciatori, che sicuramente daranno il massimo e anche di più per uscire indenni da Foggia o magari regalarci addirittura la soddisfazione di una bellissima vittoria. Sono carichi, sono anche moralmente, col morale molto alto, perché comunque il pareggio di Brindisi ha fatto bene, ha avuto un bel effetto nei confronti dei calciatori e della società e della piazza. Quindi veramente ci sono tutti gli ingredienti perché si va da Foggia a fare una grande prestazione e speriamo anche a raccogliere punti.